I bambini, il Prato Verde, le famiglie, il calcio. Oggi siamo qui perché vogliamo essere felici, aprendo le porte del nostro cuore. Non tutte le emozioni resistono in una cornice. Le più profonde fluttuano libere. Gentili te e spettatori, buon pomeriggio dal comunale di Montepaone Frabotto Mannis, dove S1TV con la sua squadra esterna 65, con Pasquale Lentini, Antonio Siciliano, il contributo di Maurizio Vatrano e Giuseppe Ranieri, opinionista della Gazzetta del Sud, e la voce di Giorgio De Filippis, sono liete di offrirvi la partita per la terza giornata del girone C di prima categoria calabrese tra Montepaone e Tropea. Sono pronte le squadre ai bordi del campo, aspettano soltanto l'arbitro, che vi anticipiamo, il signor Varamo di Taurianova, e noi appunto siamo qui in tribuna stampa dove ci avvarremo anche del contributo dell'amico Domenico Saturno in rappresentanza del Tropea e se ci raggiunge dal salottino numero 5 anche Di Mimmo Cosentino, che è già pronto a prendere appunti anche lui per il quotidiano. Quindi tutte le principali testate presenti, ma un saluto principale a Giuseppe Ranieri, una voce ormai conosciuta dagli spettatori di S1TV. Giuseppe, Montepaone-Tropea, una partita al cardiopalma o una partita facile da vincere? Sarà tutto da giocare, come ogni partita. Il Montepaone viene da un bel pareggio, possiamo dire, in quel di Lamezia. Il Tropea cercherà di tenere testa per quanto possibile al Montepaone, ma il resto lo dirà il rettangolo di gioco. E noi ci prepariamo mentre le squadre entrano in campo e noi vi diamo subito le formazioni di quelle che sono le compagini formate dai 22 atleti. Il Tropea schiera Lorenzo, De Vita, Davide De Luca, Godano, Chiapparo Nazionale, Botticelli, La Torre, Daniele De Luca, Contartese e De Benedetto. In panchina Mister Addolorato ha portato il Grande, Marchese, Zangone, Tropeano, Paglianiti e Fleri. Il Montepaone risponde con Leone, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Doria, Marco Voci, Procopio Salvatore, Cannistra e Paparazzo. Insieme a Mister Pisano sono in panchina Lombardo, Chiarelli, Nania, Gangale, Mungo, Pirritano e Fiorentino. E allora, mentre vediamo che le squadre si stanno salutando nel rispetto del fair play, anche perché si tratta di due squadre che hanno una lunga militanza in tutte le categorie, vi ricordiamo che il Montepaone nella classica tenuta bianca modello Real Madrid con inserti giallo-verdi e il portiere Leone è tutto un verde Anas, mentre invece il Tropea risponde con la maglietta gialla, calzettoni e calzoncini blu. E noi approfittiamo per chiedere a Domenico Saturno innanzitutto giocatore, non dirigente. No, 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 giocatore, giocatore. E allora in tribuna per problemi fisici? No, no, ho dimenticato, ahimè, oggi il documento. E quindi questo Tropea è venuto qui a Montepaone per fare il risultato? Si spera, noi ogni partita la prepariamo per giocarcela anche a viso aperto con le altre squadre. Abbiamo pareggiato in casa con la Vigor, abbiamo fatto un altro punto anche col Borgio, magari ci poteva stare i tre punti per noi anche perché abbiamo sbagliato un paio di gol, ma vabbè, il calcio è questo. E allora noi approfitteremo di te, intanto ti puoi accomodare appunto sui comodi sgabelli quasi delle poltrone della tribuna stampa di Montepaone. Mimmo Cosettino è pronto col cronometro, quindi non lo disturbiamo, anche noi mettiamo mano ai cronometri. Salutiamo da lontano Maurizio Vatrano che già sta raccogliendo indicazioni sullo stato fisico dei giocatori e a battere sarà attaccando da sinistra verso destra proprio il Montepaone. C'è il signor Varamo di Taurianova che ha messo il fischietto in bocca e il segnale che la partita sta per cominciare. È partito subito il Montepaone con un lancio profondo di Mellace, si lancia Fiorentino con tratto da Davide De Luca, ma poi Fiorentino mette la palla alta sopra la traversa tentando appunto di crossare. Andremo come al solito alla scoperta degli schemi e dei moduli che applicano i trainer di entrambe le squadre, non senza aver prima ricordato un po' quelli che sono gli scorre e i tabellini di queste due formazioni come già ci anticipavano. Il Montepaone è praticamente secondo in classifica con sette punti, mentre il Tropea ha due punti, reduce appunto da due pareggi e una sconfitta in quella di Giri Falco. Vediamo che Marco Voci cerca di imbeccare con un lancio l'attaccante Procopio, ma viene chiuso alla difesa con un lancio che cerca di favorire Contartese. Contartese subito attaccato da Canistran non riesce a raggiungere la palla che finisce in rimessa laterale. Dicevamo che il Montepaone ha giocato due partite fuori casa e una in casa, mentre il Tropea ha giocato due partite in casa in questo inizio di campionato ed una in trasferta. I bomber degli ospiti sono Chiapparo, Ciardulli e Contartese con un gol a testa, mentre il Montepaone ha Marco Voci e Salvatore Procopio con due reti sul tabellino. Intanto andiamo subito in telecronica con De Bendetto che tenta la Veronica, ma gli ruba la palla Paparazzo che l'appoggia poi verso Salvatore Procopio. Arriva nazionale, gli ruba la palla e riparte il Tropea con un lancio che però viene colpito di testa da Fiorentino e Mellace rimbalza la palla sul numero 8 la torre. Ancora Fiorentino non si intende con il compagno, si tratta di Doria e la palla finisce in out. Out a favore del Tropea con il numero 3, se abbiamo visto bene De Luca, ce siamo due, Davide numero 3 e poi Daniele e la palla però finisce a De Benedetto, scambio in velocità che favorisce Botticelli che si invola sulla fascia, ma vede sicuro l'intervento di Conidi a spazzare e a recuperare ancora una rimessa laterale qualche metro più avanti modello rugby per il numero 3 Davide De Luca. E noi siccome i nostri opinionisti inquadrano subito la partita, quando sono passati una manciata di secondi chiediamo subito a Giuseppe Ranieri, che partita sta avvenendo? Un inizio, un inizio, un bel inizio con le due squadre che si confrontano bene bene al centro, cercando il pertugio giusto per portare avanti la manovra, ma è una prima fase ancora, è troppo avanzato per poter dire questo quello, è un buon inizio. È un momento di studio, Mimmo Cosentino, gli schemi puoi svelarceli, qual è un 5-5-5 per entrambe le squadre? Sarebbe veramente un ottimo schema questo, sia per una che per l'altra squadra, ma comunque ancora adesso le squadre si stanno studiando, ancora non c'è nessun schema da poter vedere perché se non passa un po' di tempo, magari una decina di minuti per vedere le squadre come si mettono in campo, non possiamo dirle come sono sistemate. E allora aspettiamo il telegramma di Mimmo Cosentino con Doria che cerca l'imbucata per un eventuale inserimento di Fiorentino, ma capisce tutto Lorenzo, blocca il pallone, fa salire la propria squadra e ora vediamo proprio una linea difensiva a quattro per quanto riguarda il Tropea, ma anche per quanto riguarda il Montepaone e il rilancio che supera abbondantemente la metà campo. E Mellace che tocca di testa in maniera che possesse Leone a recuperare il pallone, ma non ci riesce e quindi possiamo subito annotare sui nostri tacquini il primo calcio d'angolo in favore del Tropea su una palla che è spostata dal vento. Oggi è una bellissima giornata, ma certamente c'è quel solito vento che soffia qui sul comunale Frabotto-Mannis e che permette ora alla squadra del Tropea di battere il primo calcio d'angolo con addirittura quattro, anzi cinque giocatori che entrano all'interno dell'area di rigore. Arriva lo spiovente, cerca il colpo di testa di vita, recupera il pallone, Botticelli lo difende, mette in mezzo ma spazza poi Fiorentino con Doria che appoggia fuori, ma il Tropea ha chiuso in questo momento il Montepaone nella propria tre quarti e il lancio in profondità di la torre vede favorire l'intervento di Leone. Ancora lo scambio tra Fiorentino e Cagnistracchi si appoggia al Leone e scambiano i due per far appunto muovere tutti i difensori e tutta la squadra del Tropea. Il lancio poi cambia tutto verso Bassi De Masi che recupera il pallone marcato da lontano da Contartese, un under di cui si dice tanto bene e poi la palla finisce lì in cassaforte tra i piedi di Mellace che la scambia con Cagnistrac, alza la testa, lancia un pallone molto preciso che però vede un altrettanto preciso intervento di De Luca di testa con il numero 11 Paparazzo che non riesce a controllare la palla. Capitan Godano serve per Contartese, si gira, c'è la sovrapposizione, Contartese cerca di andarsene in velocità ma lì c'è De Wall, Cagnistrac che lo blocca, subisce anche fallo e fa ripartire subito la squadra del Montepaone. Il tocco di Paparazzo impreciso per Marco Voci, la palla finisce a De Benedetto, controllo e inserimento di Cagnistrac, tocco per Marco Voci che allarga e cerca di ragionare per Doria. Doria cerca ancora l'imbucata per lo scatto dietro le linee avversarie di Salvatore Procopio ma non sortisce effetto. Il Montepaone comunque sembra aver preso in questi primi secondi minuti di gioco il controllo delle attività con Doria che ci mette un secondo in più e permette a De Luca di intervenire. C'è stato uno scontro non cattivo sicuramente ma certamente doloroso con Doria che appunto chiede l'intervento della panchina e purtroppo sta gridando speriamo niente di grave che siano quelle botte che fanno soltanto male ma che non producono danni. Come al solito il fra botto Mannis si è un po' riempito, lo sappiamo che l'abitudine è quella da pub inglesi, si esce da casa o dal bar e si riempiono il primo e il secondo anello di questo importante impianto del comprensorio soveratese e dicevamo in presentazione alla partita ma anche nel pre partita che abbiamo passato con tanti addetti ai lavori a bordo campo che oggi il fondo, il mantello verde del fra botto Mannis ci sembra più che accettabile, è stato rullato di fresco. Sì sì le condizioni del Prato Verde sembrano proprio ottimali per una partita, nelle ultime giornate non è stato così però il terreno ha assorbito bene tutte le fasi. Ed ecco che Doria tra l'applauso anche dei tifosi sta guadagnando l'out, speriamo che non sia niente di grave anche se ripetiamo deve essere stato un colpo doloroso e con il Tropea nella persona di Nazionale che probabilmente batterà appunto questa punizione, anzi no non è Nazionale si tratta di Chiapparo, batterà questa punizione e il lancio cerca ancora di favorire il numero 10 contartese, fermato e francobollato da Cannistra, apertura per Davide De Luca che non riesce a controllare e poi l'arbitro fischia con sicurezza un fallo probabilmente di mano con il Montepaone che risale e si preoccupa con Conidi e Mellace e anche con Cannistra di impostare l'azione di attacco partendo chiaramente come al solito dalle retrovie secondo il credo predicato da mister Pisano. Allargato il pallone sulla fascia sinistra per Bassi De Masi che controlla, alza la testa e cerca di lanciare verso Ienco, parte in velocità Ienco, ha di fronte a Sede Vita che riesce a fermarlo con l'aiuto anche di Botticelli che poi rinvia ma viene contrato ancora da Marco Voci e la palla finisce in out. Intanto mister Pisano in attesa di notizie sulle condizioni di ore sta facendo scaldare due giocatori però speriamo appunto che il Cristiano Ronaldo di Montepaone possa far parte della partita perché sennò sarebbe a prescindere da chi lo possa sostituire una perdita. Controfallo fischiato dal preciso signor Varamo, lo chiamiamo così, abbiamo deciso in assenza di notizie sull'accento e quindi ci dà anche ragione Mimmo Cosentino che quindi ha deciso di unirsi qui nel salottino numero 18 della tribuna stampa e non stare lì da solo Mimmo nel salottino numero 5, è meno soleggiato ed è anche con maggiore compagnia. Il lancio lungo viene interrotto ancora dal Montepaone, colpo di testa di Capitan Godano, cerca di controllare il pallone Daniele De Luca ma viene fermato dalla ragnatela di difensori del Montepaone ma la partita in questa fase è un attimo in confusione perché i giocatori cercano di trovare sia la posizione in campo sia l'aspetto tattico richiesto dai mister. Scoppia intanto l'applauso nel momento in cui Doria cerca di provare e noi abbiamo parlato troppo presto e ce ne dispiace di questo perché Doria appunto non ce la fa e quindi si avrà la sostituzione, si stava avvicinando al ringresso in campo ma ha fatto cenno che appunto non era possibile. E ancora Cagnistrà che cerca l'imbucata per Salvatore Procopio, raccoglie il pallone, si gira, si appoggia poi all'indietro verso Paparazzo, apre per Mellace, perde un attimo Mellace ma riesce lo stesso a servire Fiorentino, controlla di fronte a sé Davide De Luca. Il tocco ancora per Procopio con l'intervento di Chiapparo che appunto mette in out per la rimessa laterale mentre ancora non è pronta la sostituzione da parte del Monte Paone. La battuta è di Conidi che cerca di favorire Salvatore Procopio ma vede l'intervento di La Torre con Contartese che è la punta più avanzata del Tropea affiancato comunque da Daniele De Luca che cerca di dare fastidio all'impostazione della manovra che ora viene affidata al numero uno della squadra locale Lorenzo. Evita un avversario Conidi, Fiorentino, scambia con Procopio, bel colpo di tacco, lancio di Mellace, parte Marco Voci, appoggia ancora per Fiorentino, un'azione molto bella, elaborata che stava alla fine per favorire il ritorno di Procopio. Si è chiusa la morsa dei difensori del Tropea con l'ultimo intervento di Lorenzo che appunto ha chiuso ogni velleità su un'azione che era partita con eleganza, sembravano un po' insignia immobile che dialogavano e effettivamente il Monte Paone è riuscito a portare quello che potremmo annotare come primo pericolo alla porta di Lorenzo quando stiamo per arrivare all'undicesimo minuto della prima frazione di gioco. Il risultato è chiaramente ancora di 0 a 0 tra Monte Paone e Tropea e Armando Mellace, il guerriero che controlla Disturbato da Contartese, si appoggia su Cannistra che apre per Bassi De Masi, sono quindi evidentemente quattro i difensori anche se c'è un certo movimento da parte di Mellace almeno in fase di non possesso e ancora dialogano Leone e Cannistra a Bassi De Masi cercando di aprire quella saracinesca che è stata chiusa appunto dal Tropea che giustamente giocando fuori casa deve avere una certa attenzione almeno nei primi minuti di gioco. Il rilancio di De Vita viene ancora una volta contrato e la palla finisce in out. Vediamo ora se ci sarà la sostituzione, anzi no, viene dato il pallone mentre invece è finito il riscaldamento giustamente mister Pisano ha voluto che il giocatore che a breve entrerà fosse perfettamente riscaldato per evitare traumi o situazioni particolari nel momento in cui inizia a danzare sul campo. Ecco che Mellace viene attaccato da due avversari ma riesce a proteggere il pallone affidandolo poi a Cannistra ancora per Mellace, errato il controllo, lancio in profondità per Contartese si chiude la morsa dei difensori del Montepaone e forse Leone ha un attimo di eccessivo anticipo nel mandare la palla poi in out e favorendo appunto la rimessa in favore del Tropea. Siamo quindi ora al dodicesimo minuto di gioco pronti a vedere l'ingresso in campo osannato da un pubblico soprattutto femminile di Pirritano che quindi sostituisce al dodicesimo del primo tempo l'infortunato Doria e quindi noi facciamo l'imbocca al lupo a questo giocatore che si distingue sempre per correttezza e abilità calcistica. È entrato quindi Pirritano dopo solo 12 minuti di gioco. Il lancio viene intercettato da Godano, la palla finisce ancora ai giocatori del Tropea il lancio in profondità è troppo profondo ed è benedetto non può fare nulla. Vediamo ora che Leone si appoggia su Mellace e ancora lo scambio con Conidi, con Canistrà e ora toccherà il passaggio anche a Paparazzo e magari ancora a Canistrà. Ragiona il Montepaone come vuole mister Pisano mentre vediamo che mister Adolorato ha schierato i suoi in maniera proprio da disturbare la partenza ragionata ed ordinata della squadra di casa. La palla finisce in out e noi chiediamo a Domenico Saturno che se n'era andato lontano dalla zona della tribuna stampa è proprio una decisione quella di pressare alti per dare fastidio al ragionamento del Montepaone. È normale, sì, non vogliamo farci imporre il proprio gioco anche perché si vede che è una bella squadra anche da come è impostata in campo quindi cerchiamo di fare il possibile, di evitare magari qualche danno e di giocarci l'avviso aperto giustamente. Sono arrivati i tifossi da Tropea? Guarda, siamo in pochi anche perché, ahimè, non siamo molto seguiti anche perché a Tropea si vive con una certa mentalità ma comunque noi cerchiamo di riportarlo invece nelle case e tutta questa voglia di venire al campo, di gioire insieme a noi a una vittoria, a soffrire. Intanto la torre ha piazzato un bello shot di sinistro è mancino la torre? Sì. E si vede perché il tiro ha impensierito Leone ma comunque è andato fuori dai pali quindi noi lasciavo Domenico Saturdo può scorazzare qui per quello spazio che c'è però ogni tanto lo disturberemo. E ancora Cannistrà che alza la testa e si deve però appoggiare necessariamente anche a Leone scambio con i due con De Vita, De Luca, se non vado errato che lo va a disturbare. Il lancio a favorire Fiorentino bello il tocco si inserisce molto bene Pirritano il neo entrato scambia con Mellace apertura no look di Paparazzo ma utile per favorire lo scatto di Ienco che fa sportellate con Botticelli e alla fine la palla finisce in out per la rimessa in favore del Tropea. E quindi un quarto d'ora se n'è andato di questa partita Giuseppe, mi sembra che il Tropea sia venuto a vendere cara la pelle ma anche senza rinunciare a nessuna possibilità probabilmente la prima giornata la dura sconfitta a Giri Falco era un episodio non può essere caratterizzante di questa squadra vibonese. Ebbè Giorgio per quello che stiamo vedendo il Tropea con un 4-3-3 di tutto rispetto sta tenendo bene il campo cercando di coprire bene tutti i reparti la squadra è corta sia in attacco che in difesa e sta giocando bene. Benissimo, vediamo che ormai è un parterre de roi questo del Frabotto Mannis di Montepaone poi oggi non c'è neanche la Serie A e quindi se manca la Juventus se manca l'Inter se manca il Milan l'unica alternativa è venire a vedere il Montepaone intanto è Mellace che lotta con decisione ruba palla intanto il numero 10 Contartese se abbiamo visto bene anzi no si tratta di De Benedetto che scambia ora con Contartese recupera ancora la palla la difesa del Montepaone che ha la costante caratteristica di chiudersi molto bene anche nei momenti di difficoltà a rubare la palla era stato Daniele De Luca omonimo del numero 3 che invece è Davide De Luca il tocco ancora per Fiorentino che ancora non ha dato sfogo alla sua abituale capacità di mordere l'erba sulla fascia destra il lancio a favorire Contartese esce di testa Leone e tocca ancora per Conidi che scambia con Mellace sta ragionando il Montepaone senza fretta con tranquillità perché la partita è comunque lunga Conidi per il numero 11 Paparazzo che va a cercare Ienco che recupera la palla con un ottimo stop cerca ancora di metterla in mezzo ma si insinua Godano e ruba palla ottenendo anche una punizione il tocco ci sembra per Botticelli che raccoglie sulla fascia destra mette in mezzo per Contartese che nonostante sia un under nonostante non abbia un fisico enorme però è il punto di riferimento in attacco di tutta la sua squadra il che sarà segno rivelatore anche di buone capacità tattiche tocco per Mellace a testa alta si inserisce Procopio solo davanti al portiere Salvatore Procopio travolto dal portiere attenzione perché qui bisogna vedere decisioni dell'arbitro perché ha aspettato di vedere l'esito dell'azione e poi ha fischiato il fallo penso che questo fosse ultimo uomo qui mi serve un uomo che ha vestito la giacchetta nera un uomo che è stato lì a decidere quando non c'era la VAR Mimmo ultimo uomo penultimo terzultimo che uomo era? questo è stato un fallo del portiere in uscita non è un fallo da espulsione quindi noi ci atteniamo a quello che dice Mimmo Cosentino vediamo se al monitor di servizio ha visto qualcosa di diverso Giuseppe Ranieri ma guarda Giorgio io la vedo come come ultimo uomo mi dispiace ma ci picchia c'è polemica io sì io l'ho visto come ultimo uomo perché è uscito sul un attimo andiamo il microfono a Mimmo Cosentino che è un arbitro di quelli che anche alla sua epoca parlavano e spiegavano quello che facevano aveva già calciato comunque il giocatore del Montepone è stato durante l'uscita che c'è stato l'impatto con il portiere e per consolare i tifosi del Montepone diciamo che da quella mattonella potrebbe essere il piede poi di Marco Vosci laddove ci sia calcio di punizione risolve la situazione però abbiamo notato è una cosa molto interessante come il Montepone cerchi di scavalcare la difesa del Tropea con questi inserimenti rapidi di Procopio che torna indietro non dà punti di riferimento e poi si inserisce con decisione fortunatamente niente di grave per nessuno dei giocatori vediamo che e Cagnistrà addirittura che ha preso la palla e l'ha posizionata sulla mattonella indicata dal signor Varamo siamo praticamente ai 20 metri di distanza almeno così leggiamo sul nostro monitor di servizio e potrebbe essere anche Cagnistrà a cercare la soluzione di potenza probabilmente per andare poi a insidiare la porta difesa da Lorenzo vediamo ora che escono tutti medici, sanitari massaggiatori sul pallone appunto vediamo Marco Voci che però si allontana c'è Cagnistrà c'è Paparazzo la barriera disposta da Lorenzo se andiamo errati è di 5 uomini senza elementi di disturbo senza bomboletta perché qui non siamo in Serie A però i 9 metri e 15 sono tutti vediamo parte Cagnistrà di destro tiro potente gran botta di Cagnistrà risposta da Parsuo di Lorenzo che dice di no e poi ci pensa un difensore a mettere in calcio d'angolo è il primo calcio d'angolo per il Montepaone e noi annotiamo al 19esimo di gioco appunto questa punizione secca diretta precisa di destro di Cagnistrà che però non ha trovato impreparato Lorenzo scambio con Mellace ancora Fiorentino aspetta cross e per un attimo Procopio colpo di testa il Montepaone sta premendo l'acceleratore perché Procopio non è arrivato all'impatto per un nulla e poi probabilmente c'era Paparazzo pronto a ribadire anzi no si trattava di Conidi un po' come alla Chiellini poteva essere questo gol che però non è riuscito a inquadrare la porta ma il Montepaone su questa azione sicuramente ha messo in difficoltà la difesa del Tropea attenzione che Ienco sta spingendo riuscendo a rintuzzare per due volte i tiri di De Vita che però poi alla fine fa rotolare la palla sullo stesso Ienco e ottiene una rimessa laterale quindi abbiamo annotato questa prima azione abbiamo annotato comunque un Tropea ordinato che riesce anche nel momento di difficoltà a ragionare così come con Daniele De Luca che cerca di andarsene chiude Cannistrà e mette senza fronzoli in rimessa laterale siamo giunti al ventesimo del primo tempo Montepaone 0 Tropea 0 la partita comunque è piacevole per il folto pubblico che si è come al solito composto sia di esperti uomini che sanno tutto del calcio ma anche di belle signore che ugualmente hanno una perizia calcistica non indifferente e Davide De Luca che ruba palla viene contrato da Mellace il pallone finisce poi dove c'è Fiorentino che però viene spostato correttamente da Davide De Luca che poi va ancora a combattere con la baionetta cade per terra fischia l'arbitro e assegna la punizione a favore del Tropea Giuseppe Ranieri non è d'accordo? No secondo me non era una punizione perché a parte la palla l'aveva già calciata ma c'è stato un contrasto come è giusto che ci sia nel calcio e De Luca il numero 3 è andato giù ma secondo me non era una punizione era De Luca Davide ma ora sarà il destro di Contartese a mettere in mezzo scendono i lunghi del Tropea sono anche in questa occasione ben 5 che cercano anche di evitare il fuorigioco parte la parabola colpo di testa insidioso anche qui di De Luca Daniele però è stato anticipato dal difensore quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo in favore del Tropea era bella l'intenzione di Contartese il tiro è stato calciato in maniera adeguata e per poco sul primo palo non arrivava la testa di De Luca ancora Contartese parabola alta si impenna tenta il tiro al volo il numero 5 Chiapparo e la palla finisce in out consueto e doveroso ormai saluto alla squadra dei raccattapalle del Monte Paone squadra fornitissima che poi come da tradizione anno dopo anno questi ragazzini che vediamo oggi confluiranno in prima squadra perché sappiamo che la cantera del Monte Paone produce soltanto prodotti di qualità e intanto ancora riparte Canistrà che scambia con Bassi defilato sulla sinistra cerca il tocco per Voci Marco Voci apre per Ienco delizioso questo tocco non tanto il controllo di Ienco che però poi evita De Vita mette in mezzo e chiude all'ultimo momento nazionale se lo abbiamo visto male e che rilancia però la palla finisce a Leone che ha di fronte a sé Contartese ma riesce con tranquillità ad appoggiare per Conidi Conidi controlla alza troppo il lancio e la palla finisce in out con Davide De Luca che si occupa appunto della battuta nella giornata di oggi vediamo i consueti scarpini multicolore e quindi Davide De Luca ci sembra che ce l'abbia bicolori verde e grigio il che dà un tocco di eleganza in un mondo dove di solito gli scarpini sono tutti dello stesso colore il tocco ancora per Canistrà la palla si impenna De Luca colpisce di testa per Godano Godano scambia con la torre e ancora la torre che cerca di aprire per l'altro De Luca un po' di ping pong la palla finisce poi tra i piedi di Bassi De Masi che con la consueta e sperimentata tranquillità tocca per Voci che scambia con Procopio deciso forse è limite del regolamento l'intervento di Nazionale che fa sentire la grinta dei propri tacchetti sui piedi di Procopio ma ci sembrano due giocatori abituati appunto a lottare e quindi si riprenderà con una punizione parte subito il Montepaone con Mellace che si appoggia per Conidi Conidi controlla la palla e apre come di consueto per Fiorentino a di fronte a sé De Luca si sovrappone Pirritano il cross vede l'uscita di Lorenzo sicura e fa sua la palla e fa risalire tutta la squadra Giuseppe in queste categorie è difficile vedere portieri bravi nelle uscite che è forse uno dei numeri più complicati per chi difende la porta Sì ovviamente per la prima categoria è difficile vedere un portiere in grado di essere competente anche fuori dai pali e oggi abbiamo visto come il portiere Lombardo del Tropea sta mettendo in essere proprio questa specialità Ed ecco che Contartese con un rimbalzo anche sull'arbitro cerca di infilarsi tra più avversari l'arbitro questa volta vede un fallo che a noi è sfuggito e assegna una punizione in favore del Tropea defilata sul vertice destro dell'area di rigore parliamo di circa 18 metri che potrebbe essere anche in questo caso interessante più per un sinistro che per un destro e vediamo che sono ben tre i giocatori del Tropea che si preparano appunto a calciare forse Contartese si allontana mentre c'è qualche problema in panchina per Nazionale che appunto chiede il ghiaccio miracoloso quello che fa guarire qualunque giocatore di calcio si preparano i giocatori del Tropea a calciare parte di sinistro cerca la parabola un po' complicata ma la palla finisce alta si trattava se noi andiamo errato dell'altro dell'altro De Luca ma vi daremo notizie appena riusciremo a vedere cosa c'è scritto sulle sue spalle intanto è ripartito il Montepone ma c'è Varamo che dice no io non ci sto non mi avete fatto vedere niente in più ci sono due palloni in campo e quindi sospende per un attimo le ostilità quando abbiamo superato il venticinquesimo minuto il giocatore che aveva tirato prima di sinistro era Botticelli e noi appunto vediamo che l'arbitro scodella il pallone sui piedi di Mellace giustamente perché aveva interrotto lui l'azione di gioco e ancora Conidi che controlla anzi no Cannistra che controlla cerca il calcio lungo e favorisce Marco Voci controllo di petto fucilata e risponde ancora alla grande Lorenzo non era riuscito a fare niente De Vita Marco Voci due tocchi petto e destro e la palla però ha visto ancora una volta Lorenzo dire no qui comando io tra i pali non si passa e quindi ci sarà un calcio d'angolo con Mellace insieme con Paparazzo ma probabilmente calcerà Mellace parabola arcuata colpo di testa di Cannistra anticipato da De Luca e il pallone finisce in out però secondo Varamo non trova proprio d'accordissimi i giocatori del Montepaone secondo Varamo l'arbitro di Taurianova la palla è finita sul fondo e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio dall'estremità destra della propria area piccola da parte del portiere Lorenzo che già sinora in meno di mezz'ora di gioco si è distinto per due importanti interventi su tiri del Montepaone stop di La Torre scambio con Botticelli cerca di andarsene ma copre la palla Ienco e praticamente poi si appoggia per Paparazzo Paparazzo per Mellace lancio precisissimo quasi per Pirritano però c'è l'intervento ecco di De Benedetto che subisce il fallo da parte di Fiorentino e quindi si riprenderà con una punizione noi zitti zitti quatti quatti ci muoviamo addirittura dando fastidio al nostro operatore Pasquale Lentini andiamo dall'uomo dei numeri Maurizio Vatrano che ci delizia con le sue solite considerazioni di carattere tecnico-statistico Salve a tutti innanzitutto niente una partita sembra che vada a rilento si gioca su tutto il campo le azioni più pericolose sono venute da Lanci Lunghi tre per il Montepaone una punizione per il Tropea sempre una partita con il freno a mano tirato però io penso che prima o poi si sbloccherà spero spero ovviamente per i colori giallo-verdi noi ringraziamo Maurizio Vatrano ultimo dato tecnico presenza di donne allo stadio numero preciso la quota rosa come lo solito non lascia mai i delusi i sostenitori e gli esperti e quelli che appunto hanno questo interesse grazie a Maurizio Vatrano soprattutto perché noi lo andiamo a disturbare mentre lavora e intanto riparte Bassi De Masi bellissimo il lancio perienco arriva il pallone attraversa tutta l'aria e poi con grande freddezza Chiapparo spara via un pallone che aveva attraversato tutta l'aria fino ad arrivare all'altezza del rigore e che era frutto di un'azione di un dialogo veramente d'alta scuola la palla arriva ancora per Pirritano Fiorentino raccoglie il pallone alza arriva Procopio colpo di testa del numero due De Vita che senza dubbio mette fuori il pallone e dà al Montepaone il terzo angolo il secondo da quel lato però si tratta di un Montepaone che sta crescendo sempre di più ora vediamo Mellace che va a battere dicevamo proprio con Maurizio Vatrano che gli angoli sono fatti con la linea di gesto troppo stretta ecco perché a volte il pallone viene messo oltre la linea parte intanto il destro di Mellace parabola lunga a favorire Marco Voci che mette in mezzo ancora il pallone ribatte la difesa del Tropea ma c'è ancora il Montepaone in avanti la palla si impenna colpo di testa del numero tre Davide De Luca che tocca per Botticelli ancora una volta fermato da una strepitoso Ienco il lancio però vede Marco Voci in posizione di offside quindi non si muove addirittura perché non era il caso visto che era in fuorigioco Giuseppe Ranieri però la partita si sta scaldando si si sta scaldando è un pareggio che ci sta tutto anche se il Montepaone ha avuto due belle ghiotti occasioni ma il pareggio comunque ci sta il Tropea sta giocando una partita a testa alta e cerca sempre di controbattere a una bella linea difensiva per cui è difficile penetrare la retroguardia avversaria e vediamo ora che comunque continua la ragnatela e la fitta la fitta ragnatela di passaggi del Montepaone con Canistra Fiorentino tocco d'esterno a favorire Pirritano Salvatore Procopio che come si suol dire porta la croce ma anche dà degli interessanti tocchi dal punto di vista tecnico e la palla finisce ancora Fiorentino mette la palla in mezzo colpo di testa di Voci che colpisce ma l'impatto non è dei migliori e la palla finisce all'altezza la rimessa laterale quando siamo giunti al 31esimo minuto in corso di gioco in favore del Tropea che guadagna qualche metro e poi permette a De Vita appunto di effettuare la rimessa con tutto il Montepaone però che si è riportato nella metà campo dei giocatori vibonesi giustamente Varamo fa rettificare il punto da cui si batte la rimessa laterale la palla è per l'altro De Luca Daniele lo scambio però interrotto Procopio tiro sicuro ma anche sicura la presa di Lorenzo ben piazzato e il tiro di Procopio non viene ribattuto come avrebbe pensato Marco Voci che si era già avventato verso il portiere elegante De Benedetto scambia di sinistro ma il lancio è poi impreciso nonostante che arrivi con Tartese anzi la palla non è uscita quindi è stato bravo anche Conidi a controllare Cannistrà evita l'intervento di De Luca si tratta di Daniele si sono scontrati ma come al solito senza cattiveria Paparazzo vede che è un giocatore a terra ma poi riprende a giocare toccando per Bassi De Masi e poi ancora per Paparazzo fortunatamente niente di grave il fair play permetteva appunto di attendere per capire cosa si fosse fatto Daniele De Luca Paparazzo ancora scambia con Bassi De Masi si allarga su Cannistrà che è l'uomo più arretrato del Monte Paone dialogo ancora con Bassi De Masi lancio Perienco che su quella fascia sta rando il terreno mette la palla in mezzo Pirritano e questa volta è rigore Pirritano ha ottenuto il massimo perché è entrato nel momento in cui arrivava Lorenzo a munizione per il numero uno e ha conquistato un rigore e questa volta ci stava tutto Giuseppe non poteva fare nient'altro Lorenzo no no è nettissimo il rigore è nettissimo Lorenzo non poteva fare altro è stato proprio costretto si può dire da un punto di vista tecnico per evitare la rete ma il rigore è nettissimo molto bravo Pirritano ma eccezionale anche Ienco a partire in velocità e ad arrivare a mettere in mezzo l'ennesimo pallone che sicuramente appunto ha permesso poi a Pirritano di avventarsi sul pallone ed essere atterrato dal portiere ospite ed è Marco Voci che al 32esimo poggia il pallone sul dischetto tutto è pronto per battere questo calcio di rigore con Varamo che fa controllare tutte le distanze mette il fischietto in bocca saltello di Marco Voci uno due tre quattro passi Marco Voci di destro ed è gol Marco Voci c'era arrivato Lorenzo però Marco Voci ha calciato in maniera angolata in maniera velenosa e ancora una volta si va lì a salutare il nostro amato Gregorio Vatrella che è in paradiso e che tifa Montepaone ciao Gregorio ed il gol che porta in vantaggio al 33esimo il Montepaone ha un nome Marco Voci sul rigore 33esimo minuto Montepaone uno tropea zero rigore segnato da Marco Voci giusta assegnazione dello stesso da parte del signor Varamo di Taurianova si vanno a abbracciare i giocatori giusta esultanza con il tropea che ora dovrà reimpostare la propria partita e noi chiediamo all'amico appunto Saturno il rigore penso fosse netto ora come si imporrà il tropea il rigore ci sta senza dubbio adesso cercheremo di almeno di pareggiarlo o perlomeno di non andare in barca diciamo comunque la partita è una bella partita cioè Montepaone si vede una squadra attrezzata sicuramente per giocare il campionato al rispetto nostro speriamo speriamo di limitare almeno di pareggiare o chissà il pallone è rotondo non si sa mai certo e poi è giusto crederci fino alla fine grazie Saturno ora tocca a Chiapparo di battere questa punizione con l'arbitro che si è posizionato proprio lì nel posto giusto per vedere se si tratta di fuorigioco la palla viene stoppata da Marco Voci che si appoggia ancora Perienco che parte in bello stile si ferma appoggia per Paparazzo che apre senza vedere ma sapendo che lì per Procopio non riesce un tocco che sarebbe stato meraviglioso per Pirritano stavamo appunto vedendo Pirritano si trova ecco che mette la palla in mezzo ancora una volta si tratta della difesa del Tropea che si chiude bene e evita appunto che ci siano problemi particolari su questa ripartenza del Montepone ancora Davide De Luca che rimette la palla nella zona di competenza di Bassi De Massi che ora comincia a maggior ragione adesso a far girare la palla a ragionare ora che il Montepone si trova da poco più di un paio di minuti in vantaggio per il gol segnato da Marco Voci ancora un lancio lungo con Lorenzo che esce e Marco Voci che praticamente da questo potremmo chiederlo sia a Giuseppe che a Mimmo ci sembra che la punta principale sia Salvatore Procopio con un Marco Voci che gli gira intorno un po' come fa Di Bala con Iguain o con Manzucic a volte Sì 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 Voci sta leggermente arretrato rispetto a Procopio e sorprendete vedere come oggi si cerca di superare la retroguardia a ospite per mezzo di questi lunghi lanci che vengono per la maggior parte effettuati dal centro al fine di sorprendere proprio la linea difensiva E sentiamo allora la Cassazione Mimmo Cosentino che sta prendendo a sé di conteggi su minuti secondi e reti fatte questo centravanti che ha intorno a sé Marco Voci che appunto gli gira senza dare altri punti di riferimento Ma un Marco Voci che fino ad adesso ha fatto tantissimo ha avuto diverse occasioni per portare il Montepone in vantaggio non ci è riuscito su azione ma ce l'ha fatta sul calcio di rigore Grazie Mimmo e intanto vediamo che ora si riprenderà con una punizione in favore del Montepone che è affidato appunto a Canistra Paparazzo Canistra ma c'è Varamo che dice no qui comando io e si riprende quando fischio io ancora uno scambio Canistra controlla il pallone poi si appoggia verso Ienco tocco per Paparazzo che cerca di evitare il difensore del tropea si trattava del numero 6 nazionale ma senza riuscirci e quindi si riprenderà con un fallo e con una punizione che sarà lo stesso nazionale a battere vediamo che manda dice ai suoi di andare in avanti e il lancio supera abbondantemente la metà campo ma finisce nella zona di competenza di Bassi De Masi Paparazzo ha di fronte a sé Godano il pallone viene intercettato dalla torre c'è un po' di confusione Mellace mette ordine tenta la Veronica ma ancora una volta si combatte con la baionetta Contartese si gira alza la testa evita Mellace addirittura gli fa un tunnel si accentra Contartese salta vari avversari ma viene praticamente triplicata la marcatura su Contartese e qui bisogna mettere una doppia annotazione bravissimo Contartese nella sua azione ma il modo in cui il Montepone si è difeso questo lo trovate sul manuale del calcio a pagina 54 terzo comma effettivamente è stato veramente abile a superare e penetrare in aria Contartese ma al contempo dobbiamo annotare come non è consueto vedere la retroguardia giallo-verde consentire questi ingressi in aria così facilmente anche se dal mio punto di vista tanto facilmente non era perché era triplicata la marcatura su Contartese però oggi c'è Giuseppe Ranieri che appunto vuole aumentare il nostro share con delle polemiche prima con Cosentino e poi con De Filippis attenzione perché c'è Ienco che parte in velocità tocca per Marco Voci ma era in fuorigioco questo è giusto vero Giuseppe hai visto sul monitor di servizio sì 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 e intanto riparte ancora il tropeo una partita che comunque diceva Maurizio Vatrano è col freno a mano ma insomma si stanno muovendo parecchio i giocatori vediamo che godano che il capitano controlla la palla di fronte a sé paparazzo scontro tra titani entrambi non vogliono mollare alla fine c'è fallo da parte del giocatore appunto del Monte Paone sarà nazionale a battere appoggiandosi appunto sul numero due De Vita il lancio è ancora per Botticelli con Contartese che punta l'avversario e cerca di entrare in aria viene chiuso ancora una volta da Bassi De Masi e ottiene il massimo in questo frangente cioè un calcio d'angolo in favore della tropea quindi 3 a 3 il numero dei calci d'angolo con vediamo Contartese stesso che andrà a battere questa volta sono come di consueto sei giocatori nei 16 metri del Monte Paone parabola arcuata colpo di testa di De Luca Davide che più o meno di testa riprende sempre lui ma non riesce a dare la sferzata di collo per poter indirizzare verso la porta difesa da Leone e si riprende con una rimessa dal fondo con l'altro De Luca Daniele che va a dare fastidio al Monte Paone in fase di inizio appunto di azione ancora Paparazzo con Mellace apertura per Bassi De Masi che sta veramente dando una funzione di ordine ancora una volta in becca con precisione Ienco parte Ienco punta l'avversario evita De Vita ha di fronte a sé due avversari e questa oggi in questo momento è la mossa vincente del Monte Paone un Ienco in versione super che sta veramente creando il caos per il Tropea sulla fascia sinistra per quanto riguarda il Monte Paone in attacco e destra per quanto riguarda i Vibonesi in difesa e sarà ora Mellace a calciare questo quarto calcio d'angolo anche i lunghi del Monte Paone vediamo anche Canistra si avvicinano ma lo scambio è corto Paparazzo Mellace recupera ancora la palla evita un avversario entra in aria ma c'è De Vita che non molla neanche Mellace rimbalza il pallone godano poi con la sua esperienza riesce a recuperare la palla e a spararla via per evitare ulteriori problematiche siamo giunti al quarantesimo minuto e una manciata di secondi di questo primo tempo Monte Paone in vantaggio per 1 a 0 sul Tropea rete al trentatresimo sul rigore di Marco Vosci e intanto ecco che Bassi De Masi applica quello che dicono tutti gli allenatori quando fai un contrasto entra duro perché così nessuno dei due si fa male infatti viene preso il pallone e la palla finisce in out il pallone ancora toccato verso Paparazzo fa buona guardia De Vita e non si va via da quella zona di campo con i raccattapalli indaffaratissimi a recuperare tutti i palloni praticamente tra gli olivi e l'erba nel posto più lontano rispetto al campo e ancora se non andiamo errati Ienco che si prepara a scambiare con Bassi De Masi la catena di sinistra e il Montepone sta funzionando benissimo la palla si impenna spinta dal vento Mellace la mette verso Marco Vosci e poi spara via il numero 5 Chiapparo e alla fine c'è un fallo e anche se De Luca protesta perché avrebbe voluto continuare l'azione parte ancora De Luca a cercare Contartese che è molto rapido nei movimenti ma di fronte a sé Conidi si protesta per un presunto fallo di mano da parte di Conidi e attenzione c'è un intervento deciso di De Luca su Pirritano mentre Contartese e gli altri del Tropea vanno appunto a protestare per un eventuale fallo di mano da parte di Conidi cosa dice la VAR e il monitor che sono di fronte a Giuseppe Ranieri che Pirritano ha subito l'incisività fisica del difensore di Tropea del numero 3 ma con una diversa mole diciamo fisica è riuscito solo appoggiandosi a metterlo giù perché Pirritano è un under molto esile quindi è stata diciamo per così dire preda del difensore ospite ma il fallo di mano c'era? io non l'ho visto e allora se non l'ha visto Giuseppe Ranieri che ha due monitor davanti a sé figuratevi io che anche con gli occhiali vedo quanto meno possibile la palla finisce al numero 3 Davide De Luca che scambia con Contartese ma il gioco non è ancora ripreso e quindi si riprenderà con questa punizione abbinata ancora al destro di Contartese che conta i passi un po' alla Pjanic ricordiamo che da questa posizione prima ha messo in mezzo un pallone interessante in favore dello stesso Davide De Luca barriera a 2 tutti in linea pronti per l'eventuale fuorigioco parte Contartese con sueta parabola e Leone dice di no con freddezza e fa risalire poi tutta la squadra da consumato portiere nonostante l'età perché ricordiamo Leone è un 99 e ancora Bassi De Masi Paparazzo Cannistrà Leone è un in pratica il dogma tattico di mister Pisano e di fare un'azione facendo toccare la palla tutti i giocatori e ancora Cannistrà con Leone scambio fanno passare un po' di tempo cercando di far salire e aprirsi i giocatori del tropea e ancora Paparazzo ma si stringono le mani dei giocatori stessi ospiti che non cadono nel tranello e poi il lancio vede arrivare con sicurezza che apparo ma la palla è ancora per Ienco Ienco la controlla di fronte a sé Botticelli si appoggia per Bassi De Masi ancora Paparazzo e ancora Cannistrà che di prima serve Paparazzo che evita due avversari con una Veronica e poi apre molto bene dove però c'è l'intervento del difensore del tropea si tratta del Benedetto Pirritano punta l'avversario finta doppia finta arriva sul fondo mette in mezzo buona l'uscita di Lorenzo tutto molto bello questi sono 22 atleti che sanno dare del tu alla palla e ora vediamo che Lorenzo si prepara al rinvio di destro oltre la metà campo dove però tra Contartese e Conidi nessuno prende la palla poi la recupera Contartese salta ancora un paio di avversari e poi viene messo giù da Paparazzo effettivamente questo giocatore numero 11 anzi numero 10 sì Contartese chiediamo subito a Saturno se è anche un fuori quota sì è mio fratello praticamente siamo molto amici lui da sempre è stato un ragazzo che ha sempre avuto il pallone tra i piedi quindi già si vede in campo da come si destregge diciamo e lo si vede anche guardandolo appunto per chi non lo conosce quindi bravo Contartese il rilancio comunque pette la palla in out e a questo punto secondo voi il signor Varamo avrà segnalato qualcosa dal coordinamento giornalistico non ci indicano niente perché dovrebbe essere finito il primo tempo ma si gioca ancora perché il fischietto è tra le mani e non nella bocca della giacca azzurro carico del direttore di gara recupera ancora Contartese scambio ma si chiudono le maglie dei giocatori del Montepaone e si riprenderà con una rimessa laterale che stanno contendendosi Botticelli e De Vita dovrebbe battere l'esterno basso in questi casi vediamo che ancora allora era un minuto di recupero punizione in favore del Tropea c'è qualche protesta c'è Varamo che dice fermi tutti perché quello che dico non va contestato e ci sarà ancora un'occasione in questo caso importante visto il momento della partita e vista la posizione con i giocatori del Tropea vediamo Contartese mi sembra aver visto anche la torre che si preparano a mettere in mezzo un altro pallone con Botticelli che è andato in una posizione che tatticamente dovrebbe essere importante perché in questo momento in fuorigioco ma sarà un movimento che è stato previsto a tavolino infatti rientra Botticelli parte Contartese parabola forse troppo lunga sì lunga un metro forse oltre quanto sarebbe stato necessario e quindi niente di fatto per il Tropea e rinvio con i piedi dall'area piccola di sua competenza del portiere Leone che scambia con Mellace fischietto già in bocca sguardo all'orologio il signor Varamo volesse sicuro che sia passato il minuto di recupero fischia e manda tutti gli spogliatoi alla fine del primo tempo di gioco il risultato vede il Montepone prevalere per 1-0 rete al 33esimo di Marco Voci sul rigore e quindi tutte le squadre vanno a bere il classico tè caldo anche se oggi opterei più per dei succhi di frutta e qualche merendina se l'allenatore lo consente ci rivediamo tra un quarto d'ora circa gentili telespettatori bentornati per il secondo tempo di Montepone Tropea e noi approfittiamo un attimo che si è allontanato il signore che ci ha dato un'importante notizia per la serie Errata Corrig e giustamente dice non volevo la stampa ha sempre ragione non volevo contestarli però ci ha dato una notizia importante prego accomodatevi dove era l'errore che ha fatto tutta la stampa qui a Siepata è entrato Mungo con il numero 17 della maglietta di Pirritano quindi giustamente lei ha detto Pirritano ma è Mungo è ben di Mungo ok lei è tifoso del Montepone dirigente dirigente e tifoso signor Carpino e allora anche padre penso il giocatore mi pare un 2000 sì un 2000 Mattiasi e allora noi lo ringraziamo lo salutiamo e quindi penso che apparirà a breve anche sul tabellone luminoso che la sostituzione prevedeva Mungo e non Pirritano al dodicesimo del primo tempo per l'infortunato Doria e quindi anche è stato Mungo che ha causato il rigore cioè è stato atterrato e quindi noi abbiamo fatto questo errore chiaramente tutti possono sbagliare ricordo che l'ultima volta che ha sbagliato Mimmo Cosentino era il 1952 o 53 Mimmo 49 mi sembra sì in effetti era giù di lì e da allora quindi ora se ne riparlerà nel 2064 per un errore di Mimmo Cosentino noi correggiamo e andiamo avanti e nel frattempo però ci mettiamo tutti insieme a guardare se ci sia stata qualche sostituzione con la speranza in questo caso di indovinare il nome la maglia e il ruolo giusto del calciatore sono tornati in campo dicevamo entrambe le squadre noi ci prepariamo con i nostri tacquini e con i nostri cronometri perché il signor Varamo di Taurianova sta per dare di nuovo il via all'ostilità e in questo momento sono partiti ricordiamo appunto che il Montepaone è in vantaggio per 1-0 sul Tropea che non ha affatto demeritato chiaramente ha subito il predominio territoriale nel Montepaone e sul rigore niente da dire allora prima di ridare le formazioni chiediamo a Giuseppe Ranieri che tipo di secondo tempo si aspetta mi aspetto un secondo tempo dove il Tropea cercherà di risalire la china quantomeno per guadagnare il pareggio e già all'inizio della seconda frazione di gioco pare ne dia prova il Montepaone chiaramente cercherà di porre in essere tutta la sua supremazia territoriale per guadagnare i tre punti fatidici e intanto è partito nazionale ma la palla finisce poi verso Mungo che recupera il pallone combatte con la baionetta con il ritorno di La Torre e alla fine appunto è il Montepaone che però recupera il pallone con Mellace lancio preciso per Voci fischietto in bocca da parte di Varamo che ha aspettato fino all'ultimo per vedere se Voci si trovasse a partecipare all'azione così è stato e quindi giusta la segnalazione dell'arbitro che ha fatto una finezza tattica dal punto di vista degli arbitri e intanto è la Torre che controlla il pallone lo scambia con De Luca e si tratta anzi sì Davide De Luca mentre l'altro numero il 13 è Daniele De Luca si riprenderà con una rimessa laterale e certamente il Tropea in questo caso ha impostato la trama del secondo tempo cercando di recuperare Paparazzo se ne va col pallone scambia con Procopio la palla rimbalza e viene fatta propria da Godano che poi si appoggia per Davide De Luca e quindi esce poi fuori dalla mischia il Montepone ancora una volta Paparazzo non c'è fuorigioco Marco Voci la palla rimbalza sull'erba e finisce tra le braccia di Lorenzo forse era un mezzo metro troppo lungo il lancio in favore di Marco Voci e quindi nulla di fatto e si riprende con un colpo di testa di Contartese che riesce ad anticipare Conidi anche se quest'ultimo fa presente che probabilmente c'è stato un fallo di mano qualche protesta da parte del Montepone è andato giù un giocatore del Tropea e quindi si riprenderà con una punizione all'altezza della linea di centrocampo in favore dei giocatori e Vibonesi che appunto si preparano a battere mentre hanno allargato gli esterni dicevamo con Maurizio Vatrano che forse il Tropea non ha sfruttato molto le fasce laterali lo dicevamo nell'intervallo così parlando e chiacchierando tra noi mentre intanto arriva il pallone Cannistralo colpisce di testa mette in calcio d'angolo e notiamo non solo il primo calcio d'angolo del secondo tempo ma anche il quarto calcio d'angolo complessivo per il Tropea con Contartese che con il suo destro si prepara a battere una parabola che quindi presumibilmente dovrà arrivare all'altezza della porta ecco che il colpo di testa tentato da Davide De Luca sull'uscita di Leone giusta la segnalazione dell'arbitro punizione anche se ad avere la peggio è stato il giocatore del Tropea che però si riprende prontamente con Leone che si prepara a battere e calcia in direzione di Bassi De Masi che recupera il pallone saggiamente sulla pressione dell'altro De Luca Daniele per far ripetere l'operazione visto che la situazione si stava complicando quindi Bassi De Masi lascia il segno della sua esperienza giocatore del 90 avanza ancora Bassi De Masi Ienco Procopio combattono in due ci sono Botticelli e Nazionale che si ostacolavano a vicenda Contartese si gira evita un avversario tenta poi l'azione solitaria viene chiuso da Mellace l'intervento è falloso c'è stato un attimo di dubbio da parte di Varabo e giustamente Chiapparo capito che l'arbitro aveva un'incertezza ha gridato alle sue spalle il rigore per un attimo Varabo ci ha pensato su ma era nettamente lontano dalla linea però queste sono quelle cose che si dice l'esperienza di un calciatore la mette in campo si si ha cercato di approfittarne visto l'incertezza dell'arbitro e ha fatto anche bene detto tra virgolette a scapito della lealtà sportiva però il fallo è avvenuto fuori dall'aria di rigore quindi è una punizione che viene battuta dalla destra da parte dello stesso Cortese che è stato messo giù fuori aria Contartese che si prepara a battere mentre si allontana la torre Contartese ha il modo di calcolare i passi all'indietro tipico di Miralem Pjanic parte Contartese parabola interessante viene messa fuori in out la sfera l'intervento è stato se non andiamo errati di Cannistra che senza alcun dubbio ha messo la palla in out quinto calcio d'angolo per il Tropea che certamente ha iniziato il secondo tempo con la voglia di rovesciare la situazione e vediamo appunto se questa voglia si potrà tradurre infatti parte ancora Contartese parabola a uscire ribatte Mellace riparte come un fulmine il giocatore del Monte Paone si tratta di Mungo il lancio però a favorire ancora una situazione ingarbugliata all'altezza dei 25 metri del Monte Paone con un controllo da parte dei giocatori del Tropea che cercano poi di ripartire ecco che De Benedetto controlla il pallone si appoggia su Contartese questa volta non è felice l'aggancio e l'impatto non c'è e quindi la palla finisce in out Sarajenko anzi Bassi De Masi a effettuare questa rimessa con le mani si prepara appunto quest'ultimo scambia con Paparazzo e poi lancia in direzione Salvatore Procopio ci sono Chiapparo e Nazionale che fanno buona guardia ai due centrali del Tropea e la palla finisce a Lorenzo che rinvia subito verso De Luca che però la rimette nella zona di Procopio che se l'allunga fa sportellate a sua volta col numero 6 nazionale ma Lorenzo non ha dubbi nel recuperare la palla e nel far risalire tutta la propria squadra e a questo punto sono ben 5 i giocatori avanzati del Tropea con Mellace che ancora cerca la penetrazione profonda verso Marco Voci ma è troppo profondo il suggerimento e la palla finisce tra le braccia di Lorenzo ancora una sventagliata colpo di testa di De Luca controlla ancora Contartese che è vero proprio punto di riferimento di ogni azione del Tropea scambio di Conidi con Mungo che però non riesce a ottenere altro che una rimessa anzi no la rimessa è in favore del Tropea è ancora Contartese lo si trova da tutte le parti sradica la palla dai piedi del marcatore diretto Cannistrà vince addirittura un rimpallo ma il pallone finisce in out e intanto mister Pisano sta facendo riscaldare tutta la panchina quindi sta ragionando sulle possibilità di cambiamento in corsa di qualcosa per arginare questo inizio ovviamente perché nei primi sette minuti effettivamente il Tropea ha detto a chiare lettere non ci stiamo vogliamo recuperare intanto fallo di Nazionale che spinge il diretto avversario si trattava di Procopio e quindi il Montepaone può ricominciare dalla tre quarti campo zona difensiva appunto della stessa squadra di casa con Conidi che si prepara la battuta allargando un po' come fanno Barzagli e Chiellini il pallone verso Bassi De Masi scambio con Paparazzo ancora Bassi De Masi tocco per Marco Voci Salvatore Procopio c'era forse il gomito di Nazionale c'era anche per Varamo e quindi giusta la segnalazione con punizione in favore del Montepaone che quindi guadagna campo esce dalla zona di nessuno e si proietta nella zona appunto di attacco della propria della tre quarti campo in questo caso del Tropea sarà una punizione in favore del Montepaone dove c'è Paparazzo insieme a Varamo di Taurianova Paparazzo scambia con Cannistrà Cannistrà per Bassi De Masi che controlla sulla fascia mette un bel pallone in mezzo Marco Voci e questa volta però c'era il fuorigioco però il colpo di testa di Marco Voci non ha avuto quella cattiveria quella grinta che forse avrebbe meritato sì 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 vista anche vista anche l'assist proposto ci si aspettava di vedere quella cattiveria agonistica da ultimo colpo che effettivamente non c'è stata e noi approfittiamo con Domenico Saturno cosa vi si sono detti gli spogliatoi perché è entrato in campo un altro Tropea ci sembra c'è stata la strigliata da parte del mister perché si vedeva che c'era qualcosa che non funzionava non era entrato proprio l'input diciamo e adesso vediamo un altro Tropea speriamo Duri che il Montepone si sa è una bella squadra ma speriamo speriamo in bene e noi approfittiamo con Saturno non ci sono state sostituzioni non perfetto quindi è lo stesso 11 di partenza sì ora vediamo in diretta che c'è un ragazzo che si sta riscaldando Paglianiti numero 9 quindi approfitteremo per vedere insomma di chi si tratta e quindi eravamo in debito con i tre spettatori per richiamare le formazioni con le quali le due squadre sono scese in campo il Tropea Lorenzo De Vita Davide De Luca godano Chiapparo Nazionale Botticelli La Torre Daniele De Luca Contartese De Benedetto mentre invece per il Montepaone assodato che al dodicesimo è uscito per infortunio Doria e sostituito da Mungo la formazione Leone Fiorentino Ienco Mellace Conidi Bassi De Masi Mungo Marco Voci Salvatore Procopio Cannistra e Paparazzo e intanto è Cannistra che scambia ancora con Leone sono praticamente in due i giocatori del Tropea che gli vanno a dare fastidio Marco Voci con grande esperienza stava per recuperare una palla ai danni di De Vita e poi ci riesce De Vita anzi si trattava inazionale l'arbitro fa giustamente proseguire nonostante il tocco sulla maglietta ancora Marco Voci molto bravo chi apparo nel ritorno nell'evitare anche probabilmente il calcio d'angolo no secondo Varamo no e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo il quinto per il Montepaone c'era stata una palla deliziosa da Marco Voci in direzione Salvatore Procopio e i due quando parlano di calcio sembrano delle enciclopedie si prepara appunto ancora il Montepaone con Mellace ricordavamo che giustamente Maurizio Vatrano ci ha fatto notare come le ariette dell'angolo siano molto piccole intanto la palla si impenna e ci deve mettere la manona Lorenzo su un tocco dopo il calcio d'angolo per salvare un pallone che stava andando lì tra la traversa e la porta sul tocco di Canistrà in mischia dopo un calcio d'angolo e quindi dicevamo che le aree del calcio d'angolo sono piccole ecco perché il pallone viene messo un tantinello oltre quello che sembrerebbe essere lo spazio regolamentare ma Maurizio Vatrano ci ha detto che lo spazio regolamentare sarebbe un metro Mellace elegante mette in mezzo la palla si impenna mischia in aria colpo di testa De Vita cerca di rilanciare col sinistro il secondo a chi la passa Contartese che la protegge da Ienco cerca di andarsene non si passa Ienco gli toglie il pallone evita il ritorno di un avversario tocca poi in mezzo ma si difende bene il tropea con Mellace il tocco ancora a favorire l'inserimento di Marco Voci ancora Mellace probabilmente sul filo del fuorigioco vedo Giuseppe Ranieri attentissimo sul monitor di servizio c'era questo fuorigioco Giuseppe no io stavo annotando l'azione precedente non ho guardato onestamente e allora però posso dirti che qui rivedendolo anche col replay effettivamente sia pur di 15-17 cm probabilmente c'era e ancora Mellace che tocca all'indietro per Cannistra per Bassi De Masi che sta facendo un lavoro importante su questa fascia importante e preciso paparazzo Salvatore Procopio Marco Voci sembra il Real Madrid e ancora Salvatore Procopio sovrapposizione di Ienco che gli porta via un avversario arriva ancora Ienco ma è deciso l'intervento di De Vita che blocca tutto come un calciatore come un difensore dell'Atletico Bilbao e si pone quindi deciso a bloccare questa azione fraseggiata da parte del Monte Paone e ancora Ienco che rimette verso Procopio che cerca la Veronica ma la palla finisce direttamente in calcio d'angolo sull'intervento dell'altro De Luca si tratta di Davide un ennesimo calcio d'angolo quindi il Monte Paone dopo i primi minuti i primi 7-8 minuti in cui ha subito il tropea sta riprendendo un po' le fila del discorso siamo al dodicesimo 43 secondi una manciata di centesimi che non sto qui a dirvi per il calcio d'angolo con voci bellissima azione con Paparazzo che poi calcia di prima intenzione alza un po' troppo appunto la mira e la palla finisce sopra la trasversale della porta di festa da Lorenzo però l'azione è stata di quelle veramente interessanti per cui non disturbiamo né Mimmo né Giuseppe che se la stanno annotando e voi potrete domani con una minima spesa leggervi tutto quello che sta succedendo sia sul quotidiano sia sulla Gazzetta del Sud e intanto come ci aveva anticipato l'amico Saturno entra il numero 9 Paglianiti vediamo chi esce questa volta stiamo tutti attenti anche voi spettatori lì sul divano perché dobbiamo capire qual è il giocatore che è uscito se caso mai si dovesse voltare chiediamolo all'amico Saturno chi è uscito Paglianiti entra De Vita eh quale De Vita il numero 2 ah benissimo pensavo fosse De Luca sì l'avevo scambiato grazie quindi al tredicesimo del secondo tempo è uscito il numero 2 De Vita ed è entrato Paglianiti ma questa mossa cosa significa? ha scalato praticamente un esterno alto mettendolo al posto del terzino e mettendo un'altra ala sempre la stessa sempre lo stesso modulo però dando maggiore consistenza all'attacco grazie a Saturno quindi tredicesimo del secondo tempo entra Paglianiti al posto di De Vita anche se qui in omaggio all'interattività e alla partecipazione di tutti anche gli altri tifosi ci avevano indicato che era De Vita e che era il numero 2 quindi noi ringraziamo tutti perché così si fa il calcio tutti insieme divertendosi il lancio lungo in profondità avete l'uscita di Lorenzo protetto da protetto da Chiapparo e poi proprio quest'ultimo che riceve il pallone pressato da Procopio il lancio vede Mungo rubare palla paparazzo e ci ha messo forse la spalla forse la mano forse l'anca nazionale l'arbitro dice che è punizione cosa ne pensa Giuseppe Ranieri? sì sì c'era 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 e stiamo ai 26 metri e 30 centimetri mi sembra da quello che vedo sul monitor di servizio per una posizione in posizione centrale quando stiamo entrando nel quindicesimo minuto del secondo tempo e questa volta mi sa che è lui il guerriero Mellace che sta prendendo con il goniometro le misure per piazzare il pallone come solo lui probabilmente sa fare ma ricordiamoci che dall'altra parte c'è Lorenzo che sta disponendo una barriera importante con 5 elementi quindi coprendo una zona notevole e poi andando sul palo di propria competenza si prepara Varamo e vediamo cosa fa Mellace parte di destra un passo due parte Mellace deliziosa la parabola c'era Lorenzo ma la palla sfiora la traversa comunque una bella punizione ma probabilmente Lorenzo ci sarebbe arrivato se fosse stata nello specchio si ha dimostrato di poterci arrivare ma dobbiamo annotare il gran gesto sul calcio di punizione da parte di Mellace che ha impresso una bella parabola alla sfera ed ecco che De Luca scambia con Lorenzo cercano di fare come il Montepone ma ruba la palla Mellace poi c'è Paparazzo che ancora lotta per Varamo non è punizione è caduto Paparazzo e riparte ancora Davide De Luca che evita un avversario non c'è fallo si continua a combattere sulla fascia e Mungo che va a disturbare ancora De Luca e alla fine l'arbitro decide opta per la punizione siamo quindi in zona non ancora d'attacco pre-attacco da parte del Tropea perché siamo ancora nella propria metà campo è una metà campo dei Vibonesi ma ora la palla supera la linea di centrocampo e arriva dove viene sfiorata da alcuni giocatori del Tropea con Contartese che riesce a rubarla il tocco è per il capitano Godano la palla però non arriva verso la porta e vediamo ora Paglianiti che cerca di controllarla ma viene anticipato da Mellace ancora Marco Voci si appoggia per Bassi De Massi ancora per Paparazzo poi per Mellace e infine per Ienco si ragiona cercando di aprire un po' il campo così come vogliono sia Allegri che Alessandro Pisano e poi il lancio lungo è di Leone troppo lungo per Fiorentino che però riesce a mantenere la palla in campo favorendo però Davide De Luca parabola alta colpo di testa che vede arrivare Mellace e Sombrero nei confronti di Paglianiti arriva però dall'altra parte Botticelli che parte in velocità disturbato da Marco Voci il tocco è ancora per Paglianiti che controlla con eleganza scambia con Botticelli si accentra il numero 7 del Tropea cambia gioco di sinistro nella zona di Mungo che cerca di andarsene di petto va via con eleganza a un avversario e il secondo si tratta di La Torre interviene con decisione e anche qui il fallo c'è ed è giusta la segnalazione dell'arbitro ho visto Mimmo Cosentino che stava criticando il fallo ma il calcio è un gioco maschio il fallo com'è stato? Diciamo che sì il fallo c'è stato ma non è stato voluto comunque non è stato nemmeno un fallo molto grave diciamo quindi il calcio di funzione è giusto ma senza cartellino giallo grazie Mimmo ed eccoci allora che vediamo ancora Contartese che apre di sinistro attenzione arriva il numero 13 che De Luca mette in mezzo il pallone ancora per Contartese e il colpo di testa di Mellace evita l'intervento di Paglianiti ma questa volta è stato deciso dell'intervento appunto sia del Tropea che del Montepaone forse il Tropea è troppo Contartese dipendente perché qui poteva concludere qualche altro giocatore hanno aspettato il giocatore di maggior tasso tecnico e qualitativo sì 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 dipende dal loro numero 10 giocano tutti per lui perché è l'unico che fino adesso ha dimostrato di poter trascinare la squadra però anche nell'ultimo nell'ultima occasione qualcun altro avrebbe potuto portare avanti la stessa squadra intanto riceve sul suggerimento di Paparazzo Procopio viene poi bloccato dal rientro di Botticelli che poi mette la palla in rimessa laterale molto elegante sia il controllo di Procopio sia il tocco di Paparazzo diciamo che Contartese sta al Tropea così come Higuain stava al Napoli quando militava nella squadra appunto allenata da mister Sarri ecco che Ienco riceve il pallone anzi lo dà a Procopio sul rimesso Procopio cerca di andarsene viene fermato da un intervento deciso ma non falloso di Nazionale e i giocatori si stringono la mano hanno qualcosa da dire ma semplicemente un commento sull'aspetto tecnico-tattico della partita si prepara ora l'invio Lorenzo mentre ci stiamo affacciando nel ventesimo minuto del secondo tempo continua a essere in vantaggio il Montepaone per un gol a zero sul rigore segnato nel primo tempo da Marco Voci ma con un secondo tempo che ha visto un Tropea sicuramente più deciso più consapevole più volitivo e sicuramente in condizione di cercare necessariamente di rimontare lo svantaggio è Lorenzo che alza la parabola nella zona di Godano che colpisce di testa ma esce fuori con personalità canistrà che poi tocca in direzione di Marco Voci probabilmente è stato molto esperto Marco Voci ma ancora una volta perfetta la diagonale di Chiapparo su Procopio e questo Chiapparo il numero 5 riesce appunto a fare una diagonale tale da tagliare fuori Procopio che se no avrebbe potuto fare del male alla difesa e alla porta del Tropea e ancora il Montepaone che con le mani serve Paparazzo Paparazzo si gira lancia per Marco Voci colpo di tacco e qui dobbiamo dire appunto insieme a tanti altri insieme anche a Mimmo Cosentino bravo arbitro perché ha fischiato un fuorigioco che c'era e che poteva essere anche difficile da vedere o perlomeno in prima categoria abbiamo visto tanti arbitri che non sapevano neppure che esistesse il fuorigioco di rientro è vero oggi questo arbitro della sezione di Toria Nova ci sta sorprendendo abbiamo un arbitro vero in campo che fino adesso ha fatto veramente il suo lavoro io stesso a mia volta pensavo che il fuorigioco di rientro fosse qualcosa di collegato alle partenze intelligenti e quindi faccio ammenda anch'io intanto c'è un fallo con il Tropea che si prepara appunto a battere anche qui siamo nella tre quarti campo zona d'attacco con Varamo che va a misurare i 9 metri e 15 e noi li verifichiamo col nostro monitor di servizio e Paparazzo che si pone proprio a quella distanza sarà una parabola a cercare una deviazione di testa quella con la quale si riprenderà a giocare dopo il fischio dell'arbitro vediamo arriva nel centro dell'area De Benedetto De Benedetto cerca di disturbare l'uscita di Leone non ci riesce è sicuro il portiere del Montepaone e poi si appoggia per Mellace Mellace ha due giocatori su di sé ma con grande tranquillità tocca per Fiorentino controllo finta di andare via sulla destra però viene fermato da Davide De Luca la palla però è uscita e si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Montepaone con se non andiamo errati proprio Conidi che si appresti appunto a effettuare questa rimessa il tocco viene alla fine arpionato da Godano che cerca il lancio in favore di Contartese che cerca a sua volta lo scambio con De Luca e stiamo parlando di Daniele ma la palla finisce in rimessa laterale e a questo punto noi sperando che non segnino proprio in questo momento torniamo per la seconda volta da Maurizio Vatrano che ha anche dei discepoli Maurizio Vatrano ai quali spiega i segreti del computer delle statistiche in effetti oggi ci sono un paio direi di sostenitori molto giovani che incuriositi dalle nostre chiamiamole innovative idee dello staff di Mister Pisano ed è prevista anche la fornitura di bombole d'ossigeno per il cronista e questo bisogna rivolgersi alla società probabilmente negli sfogliotoi o nei magazzini vari forse ci saranno grazie Maurizio Vatrano noi lo disturbiamo sempre con un minimo di attenzione perché sta facendo un lavoro importante per Mister Pisano e intanto è Conidi che rinvia la palla ancora arriva al centro dell'area del Montepone colpo di testa Botticelli ma è Salvatore Procopio che la difende fa salire tutta la squadra elegante il tocco per Ienco Pajaniti e Ienco sono entrambi due giocatori veloci ma alla fine la palla finisce per Mungo Mungo solo davanti al portiere e il tocco è perfetto come intenzione ma finisce al lato sull'uscita di Lorenzo che ha chiuso tutti gli spazi possibili dei fronti a Mungo e quest'ultimo al ventitresimo non è riuscito a dare il colpo del KO al Tropea e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio ma è stata veramente un'azione importante con Mungo che sta diventando un po' l'ago della bilancia nel bene e nel male su di lui il fallo da rigore ora lui ha avuto l'occasione per chiudere la partita e attenzione perché c'è una vecchia legge del calcio che dice gol sbagliato gol subito con intanto De Benedetto che cerca ancora di disturbare parte Marco Voci e questa volta ci sarebbe da discutere perché non è fuori gioco vediamo cosa ha deciso Varamo perché sullo scatto di Marco Voci non siamo sicurissimi che ci fosse una posizione di fuori gioco la riesamineremo dopo tutti insieme qui in tribuna stampa sia sulla VAR ufficiale che sul monitor di servizio però così ha deciso Varamo e quindi silent VAR e si riprende da questa situazione e ancora Cannistrà che toglie un pallone di testa dall'area di rigore appoggiandolo verso Fiorentino ma la palla finisce in out e sarà una rimessa laterale per un Tropea che non sta assolutamente smettendo di pigiare l'acceleratore con De Benedetto che si appoggia su Davide De Luca per questa rimessa laterale che arriva appunto Lunga a cercare il numero 9 Paglianiti infelice in questo caso il controllo e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio da parte di Leone e ancora controllano Leone e Cannistrà ma sono tre i giocatori del Tropea che vanno a disturbare l'azione attenzione perché Paparazzo recupera un pallone ancora Procopio veramente un centravanti importante per il lavoro che svolge il rimbalzo favorisce Marco Voci tocco verso Mungo e non riesce a controllare il pallone si era già proiettato Armando Mellace e a questo punto mi sa vedo che stanno scrivendo ma lo sapete che avete soltanto purtroppo uno spazio limitato sia tu che Mimmo Giuseppe avete riempito già cinque pagine e beh perché quando si scrive durante la partita si guadagna più spazio ma poi alla fine bisogna stringere in poche righe quello che è l'evento sportivo in sé diciamo che la penultima azione è stata degna della cronaca sportiva e quindi ci ha impegnato nel sottolinearla adeguatamente intanto il lancio viene stoppato a difesa Ienco che tocca ma ancora rimbalza il pallone dicevamo Mimmo Cosentino invece ha quattro pagine e mezzo un foglio protocollo quasi intero ma alla fine prendiamo le azioni migliori quindi mandiamo quelle purtroppo dobbiamo annotarle e c'è chi gioca con la voce chi invece opera di penna quindi ognuno fa qualcosa ecco che il pallone arriva in rimessa laterale con Contartese che suona la carica per il Tropea quando ci stiamo affacciando al 27esimo minuto del secondo tempo con il Montepone in vantaggio per 1-0 contro un Tropea che comincia a credere in un'operazione almeno relativa al pareggio ma attenzione perché De Benedetto viene fermato in maniera decisa da Mellace con Varamo che giustamente si limita a fischiare il fallo no addirittura ammonisce e questa mi sembra forse eccessiva l'ammunizione sì secondo me l'ammunizione qui è davvero una punizione eccessiva perché non è stato né un fallo determinato da cattiveria agonistica è stata soltanto una spinta classica nel calcio non meritava l'ammunizione probabilmente Varamo aveva comprato i cartellini nuovi e voleva insomma utilizzarli si partirà appunto con una punizione e ancora una volta c'è un movimento vediamo che i giocatori del Montepone in questa occasione marcano in una maniera mista qualcuno uomo qualcuno a zona parte la parabola attenzione al colpo di testa ma esce con sicurezza il numero uno Leone e riparte ancora il Montepone mentre annotiamo l'ammunizione di Mellace Mellace che recupera il pallone scontro deciso con Nazionale se non vado errato e si sono fatti male in due nessuno voleva mollare in questo frangente però effettivamente probabilmente Nazionale ha avuto la peggio perché anche gridato si è sentito nettamente il grido di Nazionale anche Mellace è rimasto a terra speriamo comunque niente di grave perché è stato uno scontro di gioco intanto Varamo da appunto segnala che possono entrare i massaggiatori e quindi quando siamo giunti al 28esimo e 30 secondi annotiamo qualcosa che poi sarà recuperato perché sicuramente l'infortunio è stato per lo meno fastidioso se non doloroso per entrambi i giocatori probabilmente i giocatori del Tropea a questo punto potevano chiedere la seconda munizione per Mellace ma sarebbe stata eccessiva e quindi in questo caso Varamo ha fatto bene a non combinarla e a questo punto quest'ultimo quarto d'ora che ci prepariamo a vivere Giuseppe come lo vedi non mi aspettavo personalmente un Tropea così volitivo al secondo tempo ma guarda ha stupito un po' tutti l'inizio della seconda frazione di gioco di questo Tropea che con lo stesso 11 del primo tempo ha schioccato un inizio di gara di gran lena il Montepone ha avuto per due volte la possibilità di legittimare il vantaggio ma il fato ha detto no complice anche un grande Lombardo e il Tropea sta cercando a tutti i costi di sbaragliare l'11 guidato da Alessandro Pisano per cercare l'impresa e intanto sono ora i sanitari intorno appunto al numero 6 nazionale speriamo comunque niente di grave mentre Pisano sta dando delle indicazioni se non andiamo errati a Ienco anzi no il numero 6 nazionale si è ripreso quindi è probabile che si amellace ancora a terra ora vedremo quando si libera il capannello vediamo un attimo di che si tratta mentre Ienco sta parlando appunto con Pisano che gli sta dando delle indicazioni vediamo un attimo cosa succederà ora nel prosieguo e intanto ricordiamo che la prossima partita vedrà ancora una partita in casa per il Montepone che ospiterà il Borgia mentre invece il Tropea a sua volta ospiterà l'Ostica Serrese però sul campo di casa il campo Città del Sole appunto di Tropea mentre invece vediamo che stanno parlando ancora i giocatori si è ripreso anche Mellace che probabilmente poi alla fine ha avuto la peggio perché vediamo che forse deve abbandonare il campo per lo meno il massaggiatore lo sta abbracciando quindi dobbiamo capire un attimo cosa è successo al guerriero per far male per farsi male Mellace ce ne vuole insomma perché vediamo che probabilmente sarà costretto ad uscire quindi sarebbe una seconda sostituzione per infortunio mentre invece anche anche sulla panchina del Tropea si sta muovendo qualcosa vediamo ora cosa succederà entra il numero 16 a questo punto ci servirà ci servirà Domenico Salerno per sapere il numero 16 al posto di chi è entrato il numero 16 al posto del numero 8 quello che si è fatto male adesso di la torre quindi la torre il numero 16 è? il numero 16 Marchese quindi entra Marchese il nostro capitano il nostro capitano Marchese allora entra Marchese il capitano di mille battaglie esce la torre quando siamo al 31 del secondo tempo e noi ringraziamo sempre Domenico Saturno quindi Marchese al posto al posto di di la torre quindi intanto attenzione perché appena ci distraiamo succede qualcosa di importante perché praticamente c'è stata una richiesta di fallo di mano da parte del Tropea non so Mimmo tu avevi notato qualcosa? no purtroppo stavo annotando l'azione cioè stavo annotando il cambio quindi non ho visto nulla abbiamo sentito solo le proteste del Tropea quindi affidiamoci alla volontà di Varamo e quindi intanto rientra Mellasce Salvatore Procopio tenta la Veronica nei confronti di Ienco viene contrato quindi la torre al 31 del secondo tempo viene sostituito da Marchese la rimessa ancora per Procopio che protegge il pallone si appoggia per Bassi De Masi ma la palla ha già superato la linea che delimita il campo in zona verticale e quindi si riprenderà con una rimessa di Botticelli colpo di testa di Bassi De Masi Botticelli controlla il pallone lo svirgola favorisce forse il ritorno di Procopio senza nessun dubbio Nazionale mette la palla in rimessa laterale e quindi si riprenderà con una rimessa che permette a tutta la catena di sinistra del Monte Paone di scendere e di avanzare Paparazzo Bassi De Masi ancora in appoggio verso Canistrà che controlla il pallone e tocca per Mellace Mellace alza la testa sventagliata che favorisce Fiorentino uno schema classico palla in mezzo arriva Marco Voci e anche in questo caso nonostante si fosse trovato al posto giusto nel momento giusto non si è sembrato conventissimo su questo cross di Fiorentino del colpo di testa effettuato è mancata quella cattiveria balistica per così dire dell'ultimo colpo per l'ennesima volta Marco Voci ci ha deluso perché era un gol fatto era un gol fatto che non ha voluto siglare e intanto riparte ancora Contartese che però non riesce a controllare il pallone tocco verso Mungo copertura di Chiapparo che anticipa appunto il giocatore del Monte Paone e poi mette in rimessa laterale con Fiorentino appunto che va a coprire la zona di competenza rimessa laterale in favore di Mellace arriva Marchese il tocco è per Marco Voci Marco Voci cerca di favorire Ienco che ruba palla a un avversario si trattava di Botticelli e ancora Ienco che se ne va sulla fascia mette in mezzo il pallone però rimbalza su Ienco che rimane per terra e si riparte ancora con Marco Voci che raccoglie il pallone e giustamente in questo caso rimette la palla in out perché probabilmente Ienco nel cadere è caduto di schiena e quindi si è fatto un po' male 34esimo 30esimo secondo grande lavoro oggi per i sanitari che però in questo caso non debbono entrare il risultato è sempre di 1 a 0 in favore del Monte Paone con rete segnata da Marco Voci al 33esimo del primo tempo su calcio di rigore viene restituita con grande fair play la palla a Leone che la riceve in zona proprio da libero perché è avanzato oltre la propria area di rigore il controllo è per Mellace che si appoggia ancora per Leone con l'arrivo di Marchese Leone Marchese per poco non gli ruba la palla e poi Conidi che recupera ancora vince il Teckel e passa a Paparazzo il tocco è per Fiorentino che se ne va in bello stile attenzione al fuorigioco il tocco è per Mungo e non era probabilmente in fuorigioco Mungo e a questo punto resta il dubbio Giuseppe Ranieri mi sembra che l'unico che non fosse in fuorigioco era proprio Mungo sì no 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 ma in questo caso sì è vero l'unico che non era in fuorigioco era Mungo che era più arretrato comunque rispetto agli altri di qualche metro ma il fuorigioco proprio non c'era e quindi Varamo ha fischiato e c'è Alessandro Pisano che giustamente si arrabbia perché in questo caso i suoi giocatori avevano ragionato bene servendo l'unico giocatore che non era in una posizione non valida Fiorentino rilancio lungo però impreciso e la palla finisce in rimessa laterale e appunto viene effettuata dal Tropea il tocco è per Contartese che è un po' scomparso in quest'ultima fase ma ora se ne va con un paio di dribbling salta due avversari non Fiorentino che avanza ancora scambia con Procopio tocco per Mungo lancio perso Marco Voci che parte in velocità con Botticelli che non riesce a fare altro che a salvare la situazione mettendo la palla in rimessa laterale con Ienco che si prepara appunto alla rimessa laterale per poi cederla a Bassi De Masi si ricostituisce tutto il treno di sinistra Procopio la palla rimbalza un paio di volte per poco non stava finendo sull'inserimento di Paparazzo con Mellace che vede arrivare Daniele De Luca ma ormai il Montepone che ha ripreso un attimo il reddi nella partita spinto da Fiorentino sulla fascia se ne va Fiorentino entra in aria mette la palla in mezzo e all'ultimo momento è sempre il solito Chiapparo secondo me migliore in campo lo voglio anticipare mi sono sbilanciato per il Tropea che mette la palla in calcio d'angolo e noi annotiamo l'ennesimo angolo siamo a questo punto all'ottavo o nono avevo un po' perso il conto che corrono a battere Mellace Paparazzo Fiorentino e appena è rivenuto fuori un'altra volta Fiorentino sulla fascia destra il Montepone è salito di tono scambio con Mellace palla in mezzo delicatissima ed è lui Mellace che riesce a prendere il 7 ha tolto una ragnatela dal 7 alla destra di Lorenzo e chiude probabilmente la partita al 37esimo e quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare Mellace dedica la rete ai suoi tifosi ruba il cappellino ad Alessandro Pisano e ha fatto un gol veramente di quelli che parlano di calcio sì sì davvero un grande gol ci ha sorpreso perché nessuno credo neppure loro in campo pensavano Mellace da quella posizione potesse cercare la deviazione vincente eppure ci ha sorpreso ha visto lo specchio della porta l'ha inquadrato e ha tirato da grande campione possiamo dire Mimmo nello spogliatoio del Montepone in quanti possono togliere il cappellino dalla testa di mister Pisano pochissimi guarda forse nessuno solo Mellace ora che ha segnato è andato lì gli ha tolto il cappellino per fare festa ma è stato un bel gol però sicuramente il portiere del tropea non se l'aspettava che Mellace potesse tirare in porta da quella posizione grazie Mimmo intanto c'è c'è una munizione Mellace ha segnato al 37esimo minuto del secondo tempo il gol che dà tranquillità a questo punto al Montepaone perché era una partita dove il tropea era rientrato deciso in campo nel secondo tempo ed era anche rientrato in partita da notare anche che sull'azione del gol c'è stato un bel movimento tra Paparazzo Fiorentino e Mellace in particolare Fiorentino ha aperto un corridoio continuando a correre lungo la fascia di competenza che ha permesso poi a Mellace di avere quei metri disponibili per calciare di sinistro e mettere la palla dove Lorenzo il pur bravo Lorenzo non è riuscito ad arrivare stiamo per entrare nel 39esimo minuto con il tropea che comunque continua a combattere Ienco Mellace tocco verso Procopio parte in velocità Procopio con Nazionale che riesce di fisico ad anticipare il centroavanti del Montepaone e intanto ha ripreso anche forma e sostanza il tifo dei supporter del Montepaone che si sono appunto esaltati per il gol di Mellace e stanno spingendo il cuore dei propri Beniamini oltre l'ostacolo è ancora Fiorentino qui probabilmente ci poteva essere il fuorigioco ma Lorenzo ha tagliato la testa al toro con una bella uscita Sì sì come ha fatto oggi per tutta la partita comunque in quasi tutti i suoi interventi Lorenzo è riuscito ad uscire a prendere sempre il tempo sulla manovra dell'avversario però dobbiamo notare come da quando il Montepaone ha cercato di verticalizzare la manovra con Fiorentino dal lato opposto il Montepaone è cresciuto in maniera esponenziale Montepaone Attenzione Procopio ed era fuorigioco fischiato il fuorigioco ma Procopio stava per fare tre scusami Giuseppe No no è giusto è giusto la cronaca deve avere il giusto spazio dicevamo come Fiorentino quando ha cominciato a cavalcare dal lato opposto il Montepaone gioca con Fiorentino il Montepaone è cresciuto in maniera esponenziale giunge fin troppe volte dalle parti di Lombardo E intanto Contartese ancora cerca di rubare palla cade per terra sull'intervento di Conidi fischia l'arbitro ma effettivamente la riscossa del Montepaone è partita dalle sfuriate sul settore destro di Fiorentino ecco che si prepara appunto a calciare ancora Davide De Luca ma poi alla fine viene battuta la palla verso Godano scambio con Contartese e la palla viene recuperata da Mungo Mungo se ne va tra tre avversari cerca di proteggere il pallone alla fine lo appoggia per Marco Voci Paparazzo Marco Voci che allarga per Cannistrà parte in velocità Cannistrà sovrapposizione magistrale di Ienco molto bravo questo giocatore tocco delicato per Procopio che si gira Salvatore Procopio avete visto qualcosa che si può vedere soltanto soltanto sui campi di Serie A ed è stato a questo punto quando siamo al quarantunesimo Salvatore Procopio che ha detto Saro Mandzukic Saro Rubes ma sono anche uno che con i piedi sa fare di tutto col pallone quarantunesimo e Salvatore Procopio chiude la partita a questo punto sul 3 a 0 con i gol di Marco Voci al trentatresimo il primo tempo Mellace al trentasettesimo e Salvatore Procopio al quarantunesimo 3 a 0 per il Montepaone e giustamente minutaggio per Pirritano questa volta non c'è numero che tenga riconosciamo lo sciacchiri del Montepaone e standing ovation per vediamo chi esce Marco Voci ecco si è stato richiamato Marco Voci al quarantaduesimo al quarantaduesimo entra Pirritano ed esce appunto Marco Voci quindi quarantaduesimo del secondo tempo e fioccano gli applausi appunto per il bomber del Montepaone e anche per Pirritano che è un uomo di quelli che negli ultimi minuti hanno risolto più di un match per quanto riguarda la squadra di Mister Pisano quarantaduesimo 31 secondi il tropea comunque non si dà per vinto e con Tartese cerca la soluzione personale con un tiro bello nell'intenzione e anche per come è stato preparato ma impreciso per quanto riguarda la dinamica e la direzione ecco che recupera ancora Cannistrat che scambia con Leone che a sua volta allarga verso Conidi sul quale Marchese che va a fare pressing rimbalzo fasullo e Conidi non riesce a controllare il pallone mentre intanto vediamo che si sta riscaldando anche ci sembra che si tratti di Fleri un altro giocatore per il tropea vediamo la rimessa laterale interviene ancora Marchese che recupera il pallone scambia ci sembra con lo stesso con Tartese ancora Marchese il capitano come ci diceva Domenico Saturno e riparte ancora il Montepaone Salvatore Procopio contrato dal difensore stavolta forse Godano alza troppo la gamba e quando siamo al 43esimo i migliori giocatori scegline due per parte Giuseppe allora con Tartese e Chiapparo per il tropea per il Montepaone possiamo senza ombra di dubbio dire come sia Ienco che Procopio hanno fatto una grande gara ed ecco che esce Fiorentino quando siamo al 43esimo ed entra il numero 14 Nania chiediamo conferma anche ai dirigenti del Montepaone al 43esimo è Nania che fa il suo ingresso al posto di Fiorentino 43esimo del secondo tempo e quindi è entrato Nania ed è uscito Fiorentino anzi no ci dicono Chiarelli il 14 dovrebbe essere Chiarelli da quello che vedo quindi al 43esimo è entrato Chiarelli ed è uscito Fiorentino ricordiamo che Chiarelli è un 98 e quindi così come ha detto il nostro amico Giuseppe Ranieri ricordate che col tasto Fucsia del vostro telecomando potete votare per scegliere a vostra volta il miglior giocatore della partita ecco che si prepara ora il tropea comunque Maidomo sempre a testa alta a battere questa punizione con la possibilità anche per Flery se non andiamo errati di entrare quando al 44esimo ecco si prepara Flery dovrebbe essere se non andiamo errati De Benedetto ora vediamo anche lui si dovrà girare prima o poi e quindi noi lo intuiremo 44esimo del secondo tempo entra Flery ed esce De Benedetto quindi lo annotiamo sui nostri Taccuini mentre riparte ancora il tropea palla in mezzo ricordiamo che De Benedetto è uscito ed è entrato Flery ricordiamo che fino ad oggi il Montepaone non ha subito reti se annotiamo dai nostri Taccuini perché praticamente ha pareggiato con la Vigor Lamezia ha vinto con l'Euro Giri Falco e quindi sta vincendo oggi quindi clean sheet per la rete del Montepaone attenzione in questo caso c'è punizione Marchese con la sua esperienza come ci diceva l'amico Domenico Saturno è caduto giusta la segnalazione dell'arbitro è posizione pericolosa speriamo di non essere stati uccelli del malaugurio una volta citato in anticipo il clean sheet del Montepaone ma annotiamo anche la volontà del tropea comunque di giocare con un pallone che arriverà al centro dell'area di rigore marcatura rigorosamente a uomo da parte del Montepaone con sette giocatori del tropea all'interno della squadra è miracolo miracolo di Leone che direttamente sulla punizione che presumiamo fosse di contartese è andato a togliere il pallone dalla 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 porta praticamente e quindi complimenti perché è stato fatto un anche Leone ha iscritto il suo nome nel tabellino lancio per Pirritano controllo non felice ma c'era in questo caso il fuorigioco attenzione perché c'è un'altra sostituzione da parte del Montepaone ecco vediamo entrano ancora entra Gangale con il numero 16 e a questo punto col numero 19 dovrebbe essere Giuseppe Fiorentino e quindi intanto vediamo esce esce il numero 3 Ienco entra Giuseppe Fiorentino esce Mellace ed entra Gangale minutaggio e standing ovation per tutti i giocatori da parte di mister Pisano quindi ricordiamo che quest'anno sono 5 i cambi un applauso per il guerriero Mellace che ha sbloccato la partita in un momento in cui era difficile per il Montepaone mantenere la tranquillità visto l'arrembaggio del Tropea parte Mungo ancora sovrapposizione in velocità entra in area di rigore tocco verso Paparazzo che controlla poi tira ribatte ancora il numero 5 Chiapparo e controlla ancora il capitano Godamo che tocca per Marchese Marchese si appoggia a sua volta sul capitano sempre Godano e dialogano i due ma alla fine ne esce fuori il Tropea con Contartese che all'altezza del centrocampo ancora combatte ha di fronte a sé Paparazzo raddoppio della marcatura da parte di Procopio poi tunnel nei confronti di un esausto Contartese lancio lungo verso Pirritano e c'è una volontà dell'arbitro di fischiare anche il fuorigioco di Pirritano e quindi Montepaone 3 tropea tropea 0 i gol di Marco Voci Salvatore Procopio e Armando Mellace rispettivamente Marco Voci al 33esimo Mellace al 37esimo del secondo tempo e Procopio Salvatore al 41esimo del secondo tempo una bella partita un bel tropea un ottimo Montepaone che legittima un campionato che sta già diventando importante l'esterna 65 di S1 TV guidata da Pasquale Lentini e Antonio Siciliano grazie a Maurizio Vatrano a Giuseppe Ranieri anche all'amico di tropea Domenico Saturno con Mimmo Cosentino che ci ha dato anche le sue impressioni qui in tribuna stampa e la voce di Giorgio De Filippis vi invita alle prossime partite sempre su questa stessa emittente e intanto noi godiamoci i giocatori del Montepaone che abbracciati con la mano nella mano l'uno l'uno e l'altro si rivolgono verso il loro tifosi e vanno a festeggiare un'altra vittoria forza Montepaone grazie a tutti grazie a tutti